La porta di casa lasciata aperta, basta niente per entrare. Apparentemente è tutto in ordine. Qui dentro, spiegano i vicini, non è venuto nessuno. Dal giorno in cui Costantino Cataldi è scomparso, l'hanno come preservata. Forse è qui che si nasconde la soluzione del giallo di un uomo di 39 anni svanito letteralmente nel nulla. Siamo a Terlizzi, Vico II San Francesco, una stradina poco lontano dal centro della città. La denuncia, fatta da un'amica dell'uomo ai carabinieri, risale allo scorso 22 luglio. Per gli investigatori si tratta chiaramente di un allontanamento volontario, ma qualcosa in questa vicenda effettivamente non quadra. Costantino Cataldi ci spiega al telefono una fonte anonima. Era già in passato scomparso, ritrovato dopo una settimana a Barletta, nell'abitazione di alcuni cugini, che al momento però non sanno dove possa trovarsi. Senza un lavoro fisso, viene descritto come una brava persona, un po' intristito dopo la morte di entrambi i genitori. Nell'ultimo periodo aveva manifestato preoccupazione per non riuscire a far fronte alle spese, in particolare il pagamento di alcune bollette. Non aveva nemici, anche se sottovoce qualcuno non se la sente di escludere il suo coinvolgimento in giri poco chiari. Di certo la sua assenza da casa da quasi un mese preoccupa non poco. Al momento della scomparsa, secondo quanto denunciato dalla sua amica, indossava una canotta grigia e dei jeans, segni particolari, alcuni tatuaggi sulle braccia. La casa è rimasta sempre aperta? Sì. Nessuno è mai più entrato? No. Non lo so che dire. E nel quartiere che si dice di lui? Vogliono almeno sapere se è vivo, sta bene, perché giustamente si preoccupa.